Sultamare è stata istituita con la legge che porta la mia firma sull'istituzione dei circoli nautici. Noi abbiamo fatto una legge che vara l'associazione dei circoli nautici, li mette assieme perché vuole portare fuori dalla logica associativa ma in rapporto diretto con le istituzioni la vita dei circoli che rappresentano innanzitutto un rapporto col mare, con l'ambiente, con la natura, il rispetto della natura stessa, la pratica di sport dilettantistici, in particolare di sport acquatici, canottaggio, vela, scinaudico e tutte le altre discipline connesse, significa in buona sostanza avere un valore istituzionale della vita dei circoli nautici. La consulta è un organismo di cui fa parte il sottoscritto, in questo caso in questa fase nella qualità di presidente, l'assessore al turismo, il presidente dell'associazione di circoli nautici, il direttore regionale del demanio del turismo, tutto all'interno della consulta trovano composizione, diciamo come dire, gli interessi dei circoli, lo sviluppo degli sport dilettantistici ma anche, come dire, un rapporto diretto con le istituzioni che consente di regolare al meglio le questioni e soprattutto l'associazione di circoli nautici è quella a cui è demandata la cura della giornata del mare che ogni anno è celebrata l'11 aprile che è una giornata in cui si festeggia il rapporto col mare, ricordo a tutti che l'11 aprile è la data in cui è affondata questa famosa petroliera nel Golfo di Genova, quindi si celebra questa giornata per decreto nazionale e in questo caso l'associazione di circoli nautici con tutti i circoli della costa, che sono una settantina circa, compreso quelli delle isole, organizzano regate, manifestazioni, coinvolgono le scuole, insomma è un mondo che è uscito dal proprio guscio e che in questo caso le istituzioni cercano di esaltare nei loro valori di fondo che sono valori positivi di cura e rispetto del mare.